Oggi è la giornata mondiale degli infermieri. Il Papa li ha ricordati nella sua benedizione dalla Residenza Santa Marta. Alcuni artisti importanti, come Bansky, come Feke, hanno celebrati nelle loro opere. Oggi tutti ringraziano la categoria che è stata in prima linea in questi giorni di Covid-19. Però vogliamo sentire una testimonianza diretta su quello che realisticamente è in questo momento la condizione, il sentire della categoria degli infermieri in Italia. Siamo assieme ad Andrea Bottega, che è segretario nazionale del NURSIND, che è un sindacato di base degli infermieri, 42 mila iscritti. Bottega, come vi sentite in questa giornata? Dopo due mesi di lavoro massacrante e anche di perdite, la vostra categoria è stata molto penalizzata. Infatti ci sentiamo di condividere con tutti i colleghi e i cittadini queste perdite, più che una giornata di festa, come è sempre stato negli anni passati. Sono stati mesi importanti dove, forse anche inaspettatamente, la nostra professione ha avuto un risalto mediatico e tra i cittadini molto rilevante. Ci hanno definiti eroi, ma a noi abbiamo fatto quello che facciamo tutti i giorni nelle corsie delle ospedali, nelle terapie intensive, nel territorio. Ovviamente ci siamo molto provati sia sotto il profilo tecnico, perché dovevamo salvare delle vite umane nei confronti di una gente che non conoscevamo e soprattutto dal punto di vista umano, perché poi c'è stato tutto un isolamento delle strutture sanitarie che ha fatto sì che noi eravamo solo gli unici più vicini a portare conforto agli ammalati. Quanti infermieri si è portato via il Covid in Italia? Allora, noi abbiamo fatto un censimento con dei nomi e siamo intorno ai 34. Tuttavia sono stime fatte per difetto, perché poi non abbiamo un elenco completo di personale che è mancato dal punto di vista operativo. Molti sono stati, e anche quelli contagiati, i dati INAIL dell'8 di maggio, tra infermieri e fisioterapisti parlano di 37.000 persone, di operatori che sono stati contagiati. È la categoria in assoluto che ha avuto più contagi. La sua categoria, se dovesse in questo momento esprimere quelle che sono state alcune necessità al fronte delle quali occorre fare qualcosa di serio, di concreto, al di là delle celebrazioni, delle feste, dei ringraziamenti, che poi alla fine, passato il periodo di crisi, lasciano il tempo che trovano. Cosa chiedereste? Anzitutto chiediamo, come l'abbiamo sempre chiesto, un ambiente di lavoro sicuro. Perché questo ci permette di garantire la nostra professionalità e cure sicure anche ai nostri assistiti. Oltre all'ambiente sicuro, ci farebbe piacere anche vedere un riconoscimento della nostra professione, anche a livello istituzionale ed economico. Perché noi siamo tra i meno pagati d'Europa, abbiamo una formazione universitaria e stipendi da diplomati, fermi con le indennità al secolo scorso. Siamo stimati all'estero fino a qualche mese fa, prima dell'epidemia, per trovare lavoro bisognava emigrare. Quindi se tutta questa spesa di formazione riuscissimo a tenerla in Italia, garantendo anche un sistema degli stipendi adeguati, non sarebbe male perché significerebbe avere le nostre risorse interne per far fronte ai bisogni di salute dei cittadini che ci sono e sono sempre più elevati. Non abbiamo per esempio una carriera come in altri paesi europei, c'è un barlume che parte adesso dal punto di vista contrattuale. Chiediamo per esempio una presenza più massiccia dell'infermiere nel territorio. Abbiamo visto che le regioni dove c'è più un'assistenza ospedalocentrica hanno patito di più rispetto a quelle regioni dove è attivo un servizio territoriale importante. Quindi noi chiediamo sostanzialmente di poter fare il nostro lavoro in sicurezza per garantire cure sicure e di qualità ai nostri cittadini. Non ultimo ovviamente delle dotazioni di personale adeguate perché con i tagli che sono stati fatti abbiamo patito anche la riduzione di personale e i carichi di lavoro e questa è stata un'emergenza all'interno di un'altra emergenza. La ringrazio Bottega, buona giornata. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.